E mentre il commissario Figliuolo annuncia lo screening nelle scuole e le test dosi per tutti, l'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza incontra i vertici delle aziende sanitarie. L'assessore avrebbe annunciato l'aumento dei punti tampone, ovvero i luoghi dove saranno effettuati i tamponi, e l'assunzione di biologi per effettuare i test antigenici, mentre i medici saranno destinati agli screening a domicilio e dalle vaccinazioni. Per incentivare il contact tracing che fa acqua da tutte le parti come si è potuto assistere nella nostra provincia negli ultimi giorni. E al vaglio del governo regionale, dal comitato tecnico scientifico, anche la valutazione della modifica dei colori per paese in base alle terze dosi somministrate.